Io resto aperto, possono venire i carabinieri a cavallo, possono venire i carabinieri in borghese, in divisa, la questura, i vigili del fuoco, possono venire tutti, è una protesta pacifica, io resto aperto, se la gente proietto, proietto significa pagano, entrano, proietto, poi mi possono fermare, mi possono mettere i sigilli, mi possono fare il verbale, paghiamo il verbale e li riapriamo domani, paghiamo l'altro verbale e li riapriamo dopo domani, finché non mi chiudono i sigilli, devono mettere la serranda sardata con un apro praticamente. Non ci sta Antonio Mosticchio, titolare del cinema multiplex Teatro Fasano di Taviano e annuncia di non chiudere la sua attività, in barba all'ultimo di PCM, infrangendo di fatto la legge. Per Mosticchio è scientificamente provato che non sono stati registrati focolai a causa di cinema e teatri e la sua protesta pacifica le estende anche a tutti i colleghi, invitandoli ad aderire all'iniziativa e a non chiudere le saracinesche dei cinema. Non c'è nessuna prova tecnica scientifica che nel cinema sia mai infettato nessuno, io non sto facendo né il terrorismo, ma sto facendo una protesta pacifica, molto pacifica, io sto aprendo il cinema per far venire la gente, se la gente viene la faccio entrare. Abbiamo praticamente tentato di far capire anche agli altri esercenti che questo è un provvedimento illegittimo. Il mio legale, praticamente l'avvocato Angelo Valente, cercherà di impugnare questo provvedimento, ma per poterlo impugnare noi abbiamo bisogno di una chiusura forzata. Non possiamo chiuderci da soli, quindi nel momento in cui verrà qualcuno a chiuderci, noi impugneremo questo provvedimento di fronte al TAR, chiederemo il risarcimento danni per i danni che abbiamo subito dal donese di marzo ad oggi, perché lo stiamo incastrando comunque. E poi ovviamente se il TAR ci dà ragione saremo l'unico cinema in Italia a rimanere aperto.